ciao di domenica pranzo in piazza piccioni da una parte turisti dall'altra piccioni in alto dalla parte della torre medievale e del sole turisti da quella di bar ristoranti piegati su pizze precotte bibite gassate non vibra di rutti l'aria l'aria intera un rutto rutta se stessa una claustrofobia a terra l'acciottolato condiradissimo qualche ciuffo d'erba ci colano gelati altro ci vomitano sull'acciottolato e cicche e i piedi le suole suola consuma suolo suolo consuma suola il ciabattino lunedì apre alle 8 ma ha troppi pochi clienti prevale senza discussioni lusa e getta la politica cittadina se ne occupa della politica cittadina un gruppetto riunitosi in piazza perché non ha soldi né fantasia per altrove mangia e bevi stesso mangia e bevi dei turisti mangia e bevi da ruminanti il gruppetto nella mangiatoia quel che c'è c'è nell'abbeveratoio quel che c'è c'è per il ruminare basta basta sia i piccioni sono meno bestie non sono da soma i piccioni palanano beccano un chicco una pagliuzza individualmente accurati ci vanno apposta da quel chicco lì da quella pagliuzza distinguono un chicco da una pagliuzza nei turisti nel gruppetto che parla di politica distinguono la pizza o pasta precotta dalla bibita gassata un morso di pizza un filo di pasta un sorso un sorso di industria sotto forma di bibita o viceversa anche se no un sorso un filo un morso oppure due sorsi consecutivi due morsi consecutivi due forchettate di plastica una dietro l'altra non c'è differenza tra il precotto e il gassato e questo forse è in quest'atto forse l'unico giudizio corretto fra quelli dei turisti fra quelli del gruppetto malassortito che parla di politica e questa forse anche l'unica loro realtà completamente stretta e compiuta e da cui vengono completamente stretti e compiuti turisti gruppetto che parla di politica i camerieri tutti extra comunitari i camerieri da paesi saccheggiati in un paese che anche loro contribuiranno loro malgrado a saccheggiare non hanno mai fatto i turisti non parlano nessuno dei camerieri parla di politica eseguono ordini a modo un bambino che per non averli eseguiti una volta o per esser nato una volta per tutte ha già preso troppe botte qualche d'uno che serve pizze precotte bibite gassate s'atteggia a chi farà carriera partendo da zero con uno slancio come se questa cosa qui la carriera eccetera non fosse armamentari di un secolo fa e passa tanto che oggi per essere un oggi e nonieri non dovrebbero più nemmeno esserci servitù carriere eccetera nessuno si preoccupa dei camerieri del loro essere o non essere extra comunitari da paesi saccheggiati in un paese che contribuiranno a saccheggiare del loro non aver mai fatto i turisti effetto del turismo di altri del loro non parlare di politica effetto del parlarne di altri nei camerieri si preoccupano di qualcosa nemmeno di se stessi quando eseguono gli ordini sembra non si preoccupino nemmeno di se stessi e l'ordine supremo è la claustrofobia arrutto da cui poi anche il lutto dell'aria 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 città dell'ai ai della città della città dell'aria del via vai di tutto questo del vivaio di tutto questo via vai claustrofobico arrutto lutto aia ai del via vai di tutto questo nessuno né camerieri né turisti nel gruppetto di cittadini che s'occupa di politica s'occupa di suolo e suole di terra e sole né della torre né delle altre cose semplici nel senso di semplicemente fondamentali ad esempio è ancora l'aria perché è una cosa l'aria senza la quale non è possibile almeno per noi non è possibile fornire ulteriori esempi ulteriori esempi di alcun che l'aria e la torre che non cade il cielo che non cade la terra che non sprofonda il gruppetto che parla di politica l'aria e la torre che non cade il cielo che non cade la terra che non sprofonda è questo senza che lo sappia questo è proprio questo ed esiste grazie a questo il gruppetto che parla di politica anche il gruppetto che parla di politica parla dello stadio il gruppetto nuovo lo faranno il sindaco l'ha voluto il sindaco gli ultras l'hanno voluto i commercianti lo vogliono i commercianti e dalla capitale il partito e i cittadini pure i cittadini stanchi di punto in bianco e tutti quanti stanchi del medioevo i cittadini stanchi di punto in bianco e tutti quanti stanchi di se stessi stanchi di stanchi parla il gruppetto parla diversamente almeno nel tono a seconda che prenda parola un ultra o simili un commerciante o simili uno del partito simili stanno un po sulla voce per cifre tempistiche normative per ingerenze ci sta anzi è stragarantito di multinazionali eccetera ma delle cose ma del semplicemente fondamentale non interessa niente niente a nessuno non al partito non agli ultras non ai commercianti e pure noioso e tanto citarle le cose citare il semplicemente fondamentale la terra il cielo e pure noioso citarli e tanto non vogliono dire assolutamente niente per il partito gli ultras i commercianti o il professore passa scapolo stato pranzo da amici con invece famiglia si dirige a casa propria infervorato un poco infervorato immaginiamolo per studiare l'intero pomeriggio e parte della notte quanto professa il professore domani lunedì l'università il corso funziona per tutto il mondo così immaginiamo che pensi il professore per il cielo per la terra il professore stando a quanto se ne interessa sia pure professore di astronomia o di geologia non è da più degli ultras non è passa cammina capotto università venisse stoppato risponderebbe che lui le paga le tasse lui lo stoppassero pure la terra o il cielo risponderebbe che lui paga le tasse che ha compilato tutti i moduli e protocolli e che sono disponibili in segreteria all'università online e comunque sia lui nei propri archivi personali ne tiene copia risponderebbe qualche cosa del genere non avendo mai pensato non avendo mai potuto altro risponderebbe qualche cosa del genere anche al cielo o alla terra difficile supporre risponda a qualche cosa di diverso se non si preoccupa dei piccioni se non si preoccupa del rapporto suola suolo o delle ciche o se non si preoccupa lui è occupato chi è occupato non si preoccupa come gli ultras in curva lui come gli ultras in curva quando fanno il coro lui e infatti all'università nessuno sciopero protesta contro lo stadio nemmeno se ne accorge l'università per questo dell'università non si accorge mai nessuno ben listà solo qualche saggio sociologico qualche tesi di laurea ad anni di distanza forse dopo i fuochi dopo la cenere sulla cenere cenere sulla cenere quando non ci sarà più tempo ma cenere di tempo quando non ci sarà più spazio ma cenere di spazio per la terra per il cielo per la terra per il cielo cittadini come sono ora prima dell'edificazione riedificazione ampliamento in mane dello stadio per la terra per il cielo il cielo cittadini come sono ora prima dell'edificazione